Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A1 fare attenzione per possibile nebbia a banchi sul tratto appenninico. Sulla statale 1 Aurelia Senso Unico Alternato per lavori tra Scarlino, Scalo e Stagno. Sulla statale 3 Bis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Piave Santo Stefano Nord e Val Savignone. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, Senso Unico Alternato per una frana tra Popiglio e la Lima. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze per i lavori della tramvia, da domani divieto di transito all'incrocio di via Pisacane via Mazzoni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze. e Comune di Firenze. Buon viaggio!